Ciao! Ciao! Vieni qui! Cosa? Vieni più vicino, non ti sento! Dici a me? Voglio farti vedere una cosa! Vuoi far vedere una cosa a me? Sì, a te! Non vedo nessun altro intorno! Che cos'è? È una sorpresa! Una cosa carina! Vieni, non ci crederai! Davanti, si gela! Auguri, oggi è San Patrizio! E la sorpresa? Non ce l'hai tu! Ah, già, la sorpresa! La sorpresa! Vieni, fatti un altro sorso! No, mi gira già la testa! Bevi, stronzo, bevi! Dai! Non c'è la sorpresa! Sì che c'è! Sì che c'è! La sorpresa è che abbiamo deciso di diventare i tuoi amici! Ah, sì? Sì! E perché solo adesso? Ti sei guardata! Sei carina! Ecco, guardati! Togli il giaccone, dai! Un sorsetto? No, 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 hai permesso! E tu senza permesso non fai niente? Eh? Io sì! Dai! Sei eccitante! Io battezzerei la nostra amicizia! Beh... Se vuoi, puoi baciarmi? Sì! Sì! No, no, così! Va bene! Tranquillo! Voglio andare a casa! Oh, che dici? No! Divertiamoci! Io sono tuo amico, ora lo sai? Voglio andare bene! Vai sì, carina! Falla brava! Lasciami fare! Devo tornare a casa! Vai! Poche storie, ora me lo giocci! Fammi tornare a casa! Devo tornare a casa! No! Ora basta! Da zitta! Non gridare! Da zitta! Basta, Kurt! Fa la spezzare! Accendo la mano! Prendi la plastica! Mettigliela sulla faccia! Dio di quella bocca! Oh, Dio mio! Cazzo, perché l'hai soffocata? È morta! Certo, non vedi! Oddio! Guarda la sua lingua! Io me ne vado! Non avevo mai visto un morto prima d'ora! Non può essere! Ora sono Cazzi! Di che non è vero! Aveva la plastica in faccia! Non ci hai pensato! Adam! Che facciamo adesso? Che facciamo adesso!